Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come trasmettere su Facebook Gaming. La prima cosa da fare è installare OBS o Streamlabs OBS e configurarlo, come vi ho illustrato nei miei precedenti tutorial. Una volta che avete lanciato il programma, scegliete appunto la fonte dove prelevare appunto il video da trasmettere. Fatto questo, registratevi su Facebook e loggatevi. Una volta che avete creato l'account su Facebook e lo avete confermato, vi siete, diciamo, loggati, andate su facebook.com.gaming e poi su Trasmetti in diretta, con OBS aperto. Attendiamo il caricamento della pagina. Ci vuole un po'? Ok, qui selezioniamo se vogliamo condividere sul diario, su una pagina o su un gruppo. Una volta selezionato questo, quando lancerete il vostro streaming, verrà automaticamente condiviso dove avete scelto. Inoltre vi verrà fornito un link che potete condividere poi a vostra volta con gli amici. Da qui potete indicare un titolo, una descrizione, il gioco, ad esempio Fortnite. Non sono presenti purtroppo tutti i giochi. E configurati questi parametri, vi tocca, diciamo, decidere solo in che modo streammare. Utilizzate la chiave e potete decidere se avere una chiave fissa, che è sempre la stessa, o cambia ad ogni streaming. Potete, se volete, reimpostarla tutte le volte che volete. E per ogni streaming avete un certo numero di ore a disposizione per usare questa chiave. Quindi cliccate su Copia, aprite OBS, Impostazioni, Dirette, Facebook Live e qui incollate la nuova chiave. Cliccate su OK e cliccate su Avvia diretta. Ora non siete ancora online, visualizzate solo voi lo streaming qui sulla destra. Potete ovviamente zoomare. Per andare in live, cliccate su Trasmetti in diretta. E Trasmetti in diretta, se non avete aggiunto un titolo. E sarete online. Quindi il vostro streaming sarà su Facebook Gaming. Per sospenderlo, cliccate su Termina il video in diretta e poi su Termina. Qui potete decidere se visualizzare il video, dare un voto oppure eliminarlo. Magari se avete fatto uno streaming di prova, cliccate su Conferma per eliminare la diretta. E questo è come trasmettere il vostro gameplay su Facebook Gaming.